Intanto in Toscana arrivano nuove regole per i balneari, il servizio di Nicola Vasai. Dopo la legge alle porte dell'estate arriva anche il regolamento della regione per dare finalmente gambe al nuovo provvedimento che in Toscana punta a regolamentare il settore dei balneari. Il testo è stato definito ed intesa con le associazioni di categoria e con l'Anci e servirà per applicare in modo omogeneo e condiviso la legge. In tutta la Toscana la regione punta a consentire ai soggetti che già gestiscono stabilimenti balneari e che in questi anni hanno fatto investimenti o che intendano farne in futuro la tranquillità di poter operare fino al 2035. Resta pendente il giudizio della Corte di Giustizia europea sulle concessioni inizialmente fissate da una legge nazionale al 2020. Il regolamento stabilisce nel dettaglio l'insieme di opere che possono costituire investimento. La dimensione dell'investimento è quella che determina la durata della concessione richiesta. Nell'investimento ci stanno evidentemente tutte le opere che possono essere fatte nella struttura del bagno per la sua riqualificazione, per il suo abbellimento. Ma ci stanno anche opere complementari al bagno, oltre la propria stretta area di concessione possono essere eseguite opere su una ciclabile a fianco o soprattutto su un nuovo accesso a mare, se questo fosse possibile.